Sì, infatti, questa è la cosa che più ci rusinga perché siamo riusciti dopo il pranzo e la raccolta in modo per la vita natale, il pranzo che si svolge tra le comunità rom e senegalesi nella nostra città, ci occupiamo anche della Befana in varie città d'Italia, perché noi siamo una libera associazione, abbiamo più sezioni nel centro Italia, a cominciare da Torino fino a Siracusa. Ogni nostra sezione dicembre è dedicata alla solidarietà, come vedi Capoluogo e Salerno perché rappresentano poco tutte e otto le sezioni in Italia e Salerno ci vede la mattina in ospedale da sempre con i reparti pediatria, psichiatria e chemio e dopo nel pomeriggio saremo tutti quanti ben lieti di ospitare bambini e comunità e case famiglie in una park baby di Franco Scardone dove chi non è degente può anche raggiungerci in secondo momento con delle le card e la continua la festa con giostre, calza e giocattolo per tutti quanti, come anche il buffet tipico dei prodotti natalizi offerti dai nostri collaboratori e sponsor. Un appuntamento tradizionale che rinnoviamo per portare innanzitutto un saluto alle famiglie, oltre che ai bambini che sono ricoverati a San Leonardo e poi per esprimere il nostro ringraziamento, l'apprezzamento per il personale medico e infermieristico che è impegnato in un reparto particolarmente delicato, quello che riguarda i bambini, abbiamo avuto quest'anno anche degli episodi di grande solidarietà, umanità, abbiamo assistito bambini provenienti da altri paesi del mondo, sbarcati nella nostra città, è stata un'altra prova di efficienza oltre che, ripeto, di grande rispetto umano, di grande solidarietà per queste persone.